Siamo in collegamento da un luogo insolito. Siamo in collegamento dalle piscine comunali di Vittorio Veneto. Siamo qui per presentarvi un'altra iniziativa che riguarda le celebrazioni per il centenario della Grande Guerra. Sto parlando della staffetta del centenario. Vi ricorderete nel mese di marzo c'è stata la maratona eroica, quindi un grande evento sportivo che ha dato il là alle celebrazioni per la fine della Grande Guerra. Sarà bene, adesso nel mese di ottobre, in particolare il 24 ottobre, quindi tra pochi giorni, Vittorio Veneto sarà protagonista di un altro grande evento sportivo. Sto parlando appunto della staffetta del centenario, una staffetta, lo possiamo già dire, di 100 chilometri per ricordare appunto il centenario della Grande Guerra. Siamo in piscina, quindi la staffetta sarà fatta in vasca. In vasca per la storia è questo il titolo che abbiamo voluto un po' dare anche a questa trasmissione. E quindi mi vedete, sono in compagnia di diversi ospiti che vi presento subito. Barbara De Nardi, l'assessore al centenario della città di Vittorio Veneto. Ambra Polesel, responsabile della Notto Linuoto di Vittorio Veneto. E il colonnello Roberto Cocco, comandante del reggimento Lagunari Serenissima. Ve lo ricordate perché qualche settimana fa i Lagunari sono stati protagonisti a Vittorio Veneto del grande raduno nazionale. Ma ne parleremo dopo. Assessore De Nardi, come vi è venuta l'idea di fare una staffetta, che però non è una staffetta normale, è una staffetta piuttosto lunga direi, ben 100 chilometri? Beh, abbiamo constatato che tra le varie e numerevoli attività che avevamo proposto dal punto di vista sportivo per il centenario, la piscina era rimasta fuori. E abbiamo, ci è venuto in mente che contemporaneamente, oltre a ricordare i cento anni della fine della Grande Guerra, ci sono anche i 50 anni delle piscine comunali, che sono state costruite con un finanziamento statale, proprio in occasione di quello che allora era il cinquantenale della Vittoria. E quindi 50, 50, 100 abbiamo pensato di fare questa staffetta su due vasche, su due corsie contemporaneamente, in modo che da una parte ricordassimo i 50 anni della piscina e sommando le due corsie diventassero i cento anni della Grande Guerra. Ovviamente non potevano essere cento chilometri fatti da una persona sola, perché come la Grande Guerra non l'ha combattuta una persona sola ma un intero paese, doveva essere un'attività portata avanti da tanti che tutti insieme riuscissero a raggiungere il risultato finale. E quindi non poteva che essere una staffetta e quindi questo è poi il folle risultato. Abbiamo chiesto a Notoli Nuoto se voleva essere dei nostri e ci hanno entusiasticamente detto di sì. Abbiamo chiesto al reggimento Lagunari se volevano partecipare e anche loro entusiasti hanno detto di sì e quindi eccoci qua. Poi ci arriviamo, quindi un evento collettivo, un evento sportivo collettivo che andrà a riguardare, dicevamo prima, forse più di cento persone, perché saranno più di cento le persone che scenderanno in vasca per la storia. Allora, la Notoli Nuoto da una parte, come diceva l'assessore, festeggia i 50 anni di questa struttura, ma dall'altro si è messa in gioco perché tanti saranno anche coloro i quali frequentano abitualmente la piscina che scenderanno in vasca. Assolutamente sì. Verranno coinvolte le scuole dove troviamo anche molti dei nostri atleti disseminati e quindi potranno venire, ma potranno venire tutti quelli che se la sentono e che sanno nuotare. Appunto aspettiamo i lagunari, dopodiché i nostri master si sono già iscritti in massa, ma anche utenti normali che vengono normalmente a fare i loro vaschetti alla sera. Possiamo invitare anche i nostri telespettatori, c'è ancora qualche giorno per iscriversi, poi vi daremo tutte le informazioni necessarie. Gli appassionati di nuoto possono venire per concorrere a questo, che insomma non è un record ma per noi possiamo dire che comunque si avvicina a un record perché avere per più o meno 12 ore, 12 ore in vasca, in continuazione, delle persone che nuoteranno con l'obiettivo appunto di ricordare la Grande Guerra senza dubbio è un risultato, un traguardo importante. Colonnello, dicevamo prima, i lagunari sono stati protagonisti qualche settimana fa a Vittorio Veneto del grande raduno nazionale. Ci ricordiamo, abbiamo ancora in testa le immagini sia della parte più istituzionale, in Piazza del Popolo, poi la sfilata, poi l'arrivo degli elicotteri che ha animato anche i bambini più piccoli della città di Vittorio Veneto. Ma ora come mai siete stati coinvolti in questa iniziativa? Beh, intanto ormai abbiamo instaurato un sodalizio con la città di Vittorio Veneto ci siamo trovati a collaborare proprio in occasione dei festeggiamenti per il centenario della Grande Guerra in più occasioni e non potevamo mancare in un'occasione come questa per due motivi l'esercito da sempre fa dello sport uno dei propri elementi cardini e alla base del nostro addestramento l'acqua, l'acqua è il nostro abitato naturale, quindi noi lagunari non potevamo mancare ad un evento come questo. Quindi voi sarete un po' di supporto, garantirete anche con continuità nel corso della giornata queste vasche, entrerete anche voi in vasca per la storia, quanti lagunari ci saranno quel giorno e so che c'è anche qualche nome di spicco. Sì, 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 perché il reggimento lagunari prestano servizio atleti di spicco che in passato hanno fatto parte anche dei colori azzurri in più il reggimento lagunari ha un numero considerevole di atleti che definiremmo amatori ma che poi in realtà amatori non sono, cioè gente che abitualmente gareggia in gare di triathlon a livello Ironman, fa maratone, lunghe maratone, maratone sulle lunghe distanze quindi abbiamo persone che di sport insomma ne praticano ad un certo livello e quindi niente, in questa occasione saremo qui con una trentina di lagunari che sicuramente si divertiranno insieme alla popolazione civile a chi vorrà intervenire. Ci sarà modo di divertirsi perché sarà comunque una grande festa, lo sport sarà protagonista ma sarà protagonista anche la memoria. Allora diamo qualche nota tecnica per iscriversi come si deve fare? Per iscriversi bisogna venire qui allo sportello della piscina si dà un contributo di 5 euro e quel contributo dà diritto a una ricevuta che il giorno stesso della manifestazione servirà come pass d'ingresso e per ritirare il gadget che consiste nel sacchettino della grande storia che è quello che era già stato organizzato precedentemente dei buoni sconto per l'accesso ai musei, validi per 6 mesi successivi all'evento una cuffiettina... Vediamola, vediamola, ce l'abbiamo qui in anteprima sono appena arrivate le cuffie del centenario che tutti i partecipanti alla staffetta indosseranno e poi il buono per accedere è al brindisi finale alla sera presso il bar speriamo che il tempo sia bello così insomma creiamo una bella atmosfera e ci si diverte Ci sarà un momento di festa finale ma parliamo dell'inizio si inizierà di buon mattino perché a partire dalle ore 7 ci sarà il primo ingresso in vasca Esatto, c'è un nutrito gruppo di persone che alla mattina presto frequentano le piscine comunali e per coinvolgere anche loro abbiamo deciso di partire alle 7 di mattina anche perché insomma come abbiamo detto 4.000 vasche non si fanno sicuramente in 10 minuti anzi e 4.000 saranno le vasche totali che dovremo percorrere in quella giornata Partiremo quindi la mattina presto, daremo il via alle 7 di mattina presumiamo di finire verso le 7 di sera questo dipenderà tanto anche da quanto veloci verranno completate le distanze ovviamente però lo diciamo subito l'obiettivo non è quello di fare record di velocità assolutamente l'idea è che le persone anche una sola vasca ma diventano protagonisti per quanto riescono a fare il sindaco farà l'ultima vasca, abbiamo già deciso questo anzi ha coinvolto i sindaci del territorio perché la piscina di Vittorio Veneto sono di Vittorio Veneto però servono un territorio molto più vasto tutti i comuni di Mitrofi per cui il sindaco ha mandato in questi giorni una lettera ai suoi omologhi degli altri comuni chiedendo di partecipare anche loro per quanto riescono d'altro canto il nostro territorio è comunità europea dello sport per quest'anno e l'obiettivo della comunità europea dello sport è proprio quello di stimolare lo sport non necessariamente in forma agonistica e questo evento ci sembra rientrare perfettamente negli obiettivi della comunità europea lo dicevamo prima, tutti gli appassionati di nuoto non possono mancare non possono mancare a questo importante avvenimento, un importante evento noi come emittente televisiva faremo la nostra parte perché saremo in diretta per tutte e 12 le ore della staffetta, inizieremo qualche istante prima alle 6.55 del 24 di ottobre così mostreremo le fasi iniziali, le prime vasche e poi nel corso di tutta la giornata sintonizzandovi sul nostro canale oppure sui nostri canali social potrete seguire l'andamento e lo sviluppo di questa staffetta anche per noi sarà una prova non indifferente ma vogliamo rendervi partecipi anche magari coloro i quali non possono partecipare o perché sono al lavoro oppure perché sono a casa saranno qui con noi idealmente alle piscine comunali di Vittorio Veneto e anche questo è importante siamo in chiusura allora, beh, innanzitutto i lagunari, dicevamo, saranno uno dei punti di forza insomma di questa staffetta, che cosa augura ai suoi ragazzi che verranno qui ma i miei ragazzi naturalmente di divertirsi, di divertirsi ma non solo loro di far divertire e di stringere sempre maggiori rapporti con tutti coloro che verranno a questo momento di festa e passare una bellissima giornata, ripeto, non solo ai miei ragazzi ma a tutti coloro che verranno grazie al colonnello Cocco allora, l'invito è proprio quello di iscriversi, c'è ancora qualche giorno, giusto Ambra? sì, sì, c'è ancora qualche giorno, venite, abbiamo bisogno di rinforzi siamo già in tanti, però insomma più siamo meglio siamo e la segreteria è aperta praticamente tutto il giorno, insomma quindi vi aspettiamo, venite ad iscrivervi Assessore, anche per lei l'ultimo invito ai nostri telespettatori se qualcuno fosse venuto a conoscenza di questa iniziativa solo in questo momento che cosa deve fare? beh, assolutamente venire alla Nottoli, venire in piscina e iscriversi direi a nome non solo mio ma di tutta l'amministrazione anche del collega Costa che si occupa dello sport, del sindaco assolutamente un invito a partecipare e formare una grande squadra che raggiunga i 100 km agognati l'obiettivo è arduo ma ce la faremo, ce la faremo noi vi diamo appuntamento appunto alle 6.55 del 24 di ottobre per vivere insieme una grande giornata insolita anche per la nostra emittente televisiva tutti quanti entreremo in vasca per la storia grazie